La priorità è uccidere tutti i nemici all'attacco Un'elenda? Stop C'è un team di destra mente Cosa è il curve? Oh merda Ma come spara sta roba? Sono finito con lì asce k Con la me Esterno Non ho che è sciotto in eco blade Non ho armi In faccia un krig Ho bisogno di un eco che stanno facendo qua Sono incastrato No Sì raga Come fatto? Quasi gracchato Sei in largo porca puttana Qua c'è un grappolo Lagunso acqua No io no No Eh devi rivelazione Eh non capisco Staccato con il suonario C'è di peggio però Comprato il legume Trust me Ho risolto tutti i problemi della mia vita A me no Sincero Io No Va raga Cotto Oddio No vabbè raga Non avete capito Ho investito quello sopra la macchina investita Un altro Un altro Tirano e uno No Non è un ballone Un ballone Ma che cazzo C'è gente nico? Sì Cato Arriviamo Cosa cazzo sta facendo? Venimi soldier Ah sì E' quel vero lì Altro avvia lì qua Questo sotto è da fare Sale Sei flagato Dilli Sto rilenda qua Ma che passione c'ha Morto Presto ci sia Era mio Era mio Ah pensavo avessi fatto un altro team Scusami Vero Scusami Niente dopo ti dirò Vedi vero Vedi vero Devi farlo prima Bastardo Questo è sceso Questi ragazzi tengono proprio a riprendere qua a morire Sì sì è risceso è terza volta che va Siamo a riferire Mi sento malissimo Vabbè Vabbè raga Invera I soldi I soldi Mi aveva fatto tipo 10 a me Non volevo farne uno anch'io Eh ma io le pago meno Perché lo paghi meno? È impossibile Tira tiralo via Senti qua Non è stato Un costato Mettia massacrato Arrivano gli altri due Da qua in mezzo Dovanti te 10-4 Sono diventata la ragazza UAV Sotto Sotto dentro la smette questo e vado a farlo anzi ma questo è un parkurista raga non li vedo non scappa non si sapevo che scappa ancora destra uno in volo One shot Un di vita ragazzi Difficilissimo scamarmi le kill con Nikita Perché un rato di fuoco allucinante Ci proviamo lo stesso Ho visto di ciò che ci ha provato Peccato Nikita Io sto giocando proprio per scammarti Infatti l'ho notato In realtà non è vero un cazzo Scusami se non sono come te Vabbè Che è andato questo? Fai? Nice Uh Arsenal è pieno Vado Giocare per la win Cheat Eh ma sto game Non posso sto game Facciamo se vuoi save phone Puoi andare, vero? Potrebbe essere un bel Record Eh record no però Eh in questa modalità non so quante bombe hanno fatto eh Eh ieri Mark mi ha fatto una trentina No abbiamo fatto 70 Tipo 70 Di team ovviamente 36 l'ha fatto Mark 33 l'ha fatto Mark Ah io dico personale 30 30 32 Ah va vero Sparne Staccato uno Morto Vabbè Questo di demolire 100 centali Main E' Che ti invito affidabile Questo è flyer There's a grappola vita Vabbè si muore quello che aveva fermi questo meno arriva un flyer c'è un altro qua dietro io ho trovato un portatile se c'è un altro capo nato capo nato che si fa sono sotto e facendo questo singolo mario da te vero foto fa 9 che sono morto non lo so non lo so mia questa distrutta di corsa ma città questo ma è mi sa che non città città non città non città per niente ho l'impressione che mi avesse sciolto troppo velocemente nico ciao safe i know 25 nel tetto a lì e uno sotto faccio uno via avanzato lo volete l'ultima sotto lì un bello d'out che veloce la sei fa con la mina ti sto sparando a questionare king che è successo stalkers non ce la faccio qui puoi sciopere maschere alla shop venga andiamo a prenderci questo qua di cercare di spade andiamo l'unico vinto 8 ma quando hai fatte vabbè fabio un po se vuoi venire qua nico c'è un po di bottazzi da fare sì ma c'è killato in realtà non voglio uno craccato altro one shot giusto un po di soldi io faccio un'altra tip la faccio e sei stati aspetta aspetta sì sì copia con la macchina copia con la macchina no 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 non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho stai giù su mio dio quanta cento c'è qua ho i cheat ho i cheat potete un unico craccato ma cosa c'è un pettuccio cercato ho le stunna sono stunnato da solo si buttano quelli top si buttano una terra ho evitato di brutto c'è quello non sopra eh si si lo guardo lo guardo si chiude la montagna terra nice uno è passato a destra mi resta forse ok la tentazione è stata tanta grappo sulla mia testa vabbè mi cambia molto giù qua dentro raga 2 qua dentro da me nel vagone eh c'è il bombato eh c'è il bombato riuscire no way no way ho tratto uno shop portatile 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 vuoi stressare stressare occhio dall'alto la montagna sparano già hanno tirato una localizzante con bloccato per fare nico eh no ma non si non riusciamo a salire impossibile i giorni come faremo non hai visto una delle scuole le centrali ha pensato che no no anche la vita sentito sono portatile se trovate devono affrontarsi prendiamo fatto fatto con l'altro feritissimo spagnolo e mi chiesto se abitato a velestima e butto le stu una buona che 38 nico vate vati per le 40 l'infatti ringateli sono siano questi possono factory ancora sono in volo sono rimasti sotto c'è un buon portabile avete usato voi si l'ho fatto io forse guarda a faccia di qua sotto qua sotto qua sotto a tutti e due 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 qua sotto vabbè ok uno shot no kill a live one shot one shot si è riscolti sopra si è restato e l'altro si è restato però sopra si si non si resta questo si riesce a salire no ragazzi no ma rimaniamo fricati così basta che non la perdiamo infatti no prendiamo a destra la destra qua si è riuscita grazie grazie gg ciao 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 ciao